Intro Salve a tutti i Blazers e bentornati nella serie di sopravvivenza Dunque, in questa puntata inizieremo subitissimo facendo un'armatura personalizzata Per cui, come vi ho già detto nella scorsa puntata, ho intenzione di fare un'armatura colorata Con una colorazione unica che sarà destinata solamente a noi Blazers Dunque, nell'eccesso solamente quest'unico pezzo di armatura di pelle E il caschetto Che però è un po' consumato, quindi non so se voglio fare il barbone su questa cosa Ce la faremo da capo, facciamo così Quindi dobbiamo prenderci la pelle Vediamo quanta ne abbiamo Ne ho sei È molto poca Dobbiamo anche farmare della pelle, quindi a questo punto Rifaremo tutti i pezzi d'armatura da capo In modo da avere un'armatura di pelle full E totalmente integra Quindi non già rovinata Dopodiché la coloreremo appunto Con i coloranti, vale a dire questi qui E faremo un colore personalizzato Che io ho già deciso Nel senso che mi sono messo lì Ho fatto delle prove in creativa su un altro mondo E ho già trovato una combinazione che mi convince Dopo la vedrete anche voi Per il momento vi dico solamente che si tratta di un'armatura verde Molti di voi mi hanno consigliato Intanto vi faccio vedere anche che qua fuori ho sistemato tutto così Quindi ho nascosto tutta la parete dove c'è la mappa Tutti... tutte le leve dietro della pietra e della terra Dicevo molti di voi mi hanno consigliato Di fare un'armatura Arancione Arancione o gialla Come le blaze per l'appunto Però no Ho deciso di farla verde Intanto prendiamoci anche un po' di cibo Così ci riempiamo lo stack di pollo Perché verde? Perché semplicemente Vi faccio vedere Per chi ancora non lo sapesse Io ho il mantello verde Perché il mio personaggio è ispirato a Un soldato di Attack on Titan Dove appunto la legione esplorativa Che è una legione dell'esercito di questo manga Ha un mantello colorato di verde Quindi voglio farmi l'armatura Così proprio per questo motivo Ora avremo bisogno di un bel po' di mucche da ammazzare Qua abbiamo looting Quindi probabilmente dropperemo un bel po' di pelle Però voglio comunque prima moltiplicarle Perché è un peccato decimare tutte queste belle mucchine Quindi iniziamo con Farle accoppiare un po' Dovreste essere tutte a posto Giusto? Sì direi di sì Dopodiché Le uccidiamo Proprio cattivamente Ovviamente non uccidiamo i piccolini Perché noi non siamo così malvagi Però tipo Lei muore E mi ha dato solamente una bistecca Inutile Sei morta per niente Tu cosa mi dai? Mio Dio ma Solo bistecche mi date? Non ho capito Ah 4 di pelle Meno male 3 di pelle Ci servono 26 pezzi Se non erro Quindi siamo messi abbastanza male Mi spiace ucciderle però Mi spiace Proviamo ad andarle a cercare da un'altra parte Anche perché se Anche le uccidessi tutte Mi sa che non dropperebbero abbastanza pelle Quindi proviamo a uscire da qua dietro Perché mi sembra che qua dietro C'erano un po' di pe Di pecore Di mucche Le pecore sono inutili in questo momento Infatti Ecco qua una mucca Ci sono anche dei cavalli Sono spawnati i cavalli Incredibilmente Ok Grazie mucca Mi ha dato un sacco di pelle Ce ne sono altre? Oppure no? Pare di no Ce n'è una la Perfetto Nascosta dietro All'albero Che sembra una I Guardate che bello che è Non l'ho mai tolto questo albero Perché Non dico che si è generato così Si è generato Poi ha preso fuoco Penso a causa della lava vicino No Non morire bruciata Ti devo uccidere io No Non ha droppato niente Forse solo la carne Porca Eva Vabbè dicevo Siccome è bruciato l'albero È bruciato Sono bruciate tutte le foglie E questo blocco di tronco È rimasto tipo una I Che è una cosa fantastica Perché si è fatto Da solo Allora Cerchiamo un po' di mucche Nel mentre andiamo ad esplorare Luoghi Visi Probabilmente solo una volta In tutta la serie Perché in effetti Qua è molto bello Però non ci sono mai venuto Perché Non c'è quasi un cazzo Cioè siamo sopra Delle extreme hills Abbastanza vuoto Qua c'è un creeper Vabbè Là c'è il portale Che non funzionava Di qua in linea d'aria C'è il Il monumento oceanico Che è molto più vicino Di quello che Sembrava inizialmente Invece qua Di mucche Non ce ne sono Quindi dobbiamo tornare Indietro E andare da un'altra parte Ahimè Ma da quando ci sono Tutti sti maiali qua? Ottomila maiali Mica scemi Si mettono qua i piedi Della cascata Si fanno il bagno Tac Si rilassano Però a noi servono Le mucche Chissà se troverò Delle mucche qua dentro Ma dato che non ho voglia Di farmi chilometri Uccidiamo le mucche Che abbiamo qui Perché tanto Servono solamente A quello Se non che ce n'è Magari qualcuna qua fuori No Qua fuori spawnano Solo pecore ogni tanto Non ho mai capito il perché Allora Mi spiace piccolini Vi uccido le mamme Cioè Alla fine è quello Che stiamo per fare 22 Guarda Io ne uccido solo un'altra Se ci va bene Ci droppa 4 di pelle No Non ha droppato 4 di pelle Allora muori Non ha droppato ancora La pelle Allora No Fa troppo tenerezza Sta cosa Tutti i piccolini Sono andati lì Dall'unica mucca Tipo a farsi proteggere Non la posso Chillare Non la Non la posso Ops Sono una persona Orribile Sono andati tutti Dove era morta La mamma Dove c'è L'esperienza Stanno guardando L'esperienza Come dire Dove sei andata Mamma No No me ne devo andare Mi devo lavare la coscienza Sono una persona Orribile Sono Però abbiamo la pelle Quindi Questa carnificina Non dovrà ripetersi Siamo a posto Perché devo vedere Che c'è una mucca lì Selvatica Inutile Senza piccoli Da sfamare Né niente E la vedo solo ora Potevo uccidere quella Porca Eva Sempre così Vabbè Andiamo giù Non ci pensiamo più Tanto si sa Che sono una persona Orribile Dunque Craftiamo Questa Maledetta Armatura Bagnata Con il sangue Di mille mucche Quindi Il petto Le gambe I piedi E La testa Ci avanza anche Della pelle Potevamo Risparmiare Una mucca Se ci andavano Se ci andavano meglio Le cose E Prendiamo Il colorante Vale a dire Colorante ciano Cactus green E bianco Dunque Qual è La colorazione Che darò Alla mia armatura E che poi Se vorrete Darete anche voi Alle vostre armature Per avere Tutti l'armatura Uguale Per riconoscerci Tra di noi Insomma La La colorazione Che darò È questa Vale a dire Allora Intanto Mettiamo Nella crafting Vi faccio vedere Come si colora Mettiamo Nella crafting L'armatura E poi Aggiungiamo Tutti i colori Che vogliamo Per raggiungere La gradazione La gradazione di colore Che ci interessa In questo caso Metterò Uno di bianco Aspettate Uno di bianco Due di ciano E quattro Di verde cactus Per raggiungere Questa colorazione Prendiamola Vi faccio vedere Perché Allora Quindi Togliamo Questi due pezzi E mettiamo Quest'armatura Dunque Troviamo Un'angolazione Decente Eccoci qui Vedete Il Margine Del cappuccio Della Della mia Texture Guardate È molto simile Al contorno Che ha l'armatura Al colore Del contorno Siamo proprio Vicinissimi E questa è la colorazione Più vicina Che sono riuscito a fare L'unico problema È che come si può notare Subito Così Ad occhio È che l'armatura È molto più bianca E non dipende tanto Dall'unità sola Di bianco Che ci ho messo Perché quella Era Utile Per raggiungere La giusta sfumatura Ma è proprio perché Le armature di pelle In generale Hanno questo difetto Vale a dire La colorazione Che voi gli date Non sarà proprio Il risultato definitivo Perché poi Nel Nel calcolo Della texture Il programma Minecraft Sovrappone Una seconda texture Che penso Serva per dare Queste sfumature Tipo i bottoni E eccetera E eccetera E quindi Il risultato Che dà l'armatura Purtroppo Non è fedele Alla colorazione Che tu gli hai dato Ma è Biancastro Qualsiasi colore Tu gli metti Se anche io Facessi solo verde Qua sembra Magari ancora Ancora carino Ma vi assicuro Che poi È biancastro C'ha proprio Sempre questo effetto Di colore Biancastro Il che è un peccato Però È così Appunto Tutte le armature Usciranno In questo modo Purtroppo E quindi Ragazzi Ho fatto diversi Sperimenti In creativa Come vi ho detto E sono arrivato A questo risultato È diciamo Il colore Che più si avvicina Alla colorazione Del nostro Mantello Quindi Del mantello Della mia skin Quindi ho deciso Di fare così Ora ci manca Anche del colorante A dire la verità Ci manca Ci manca Del colorante Devo andare A prendere Il cactus Perché Lo dobbiamo fare E niente Ragazzi Quindi Purtroppo Non posso Raggiungere Proprio Il colore Preciso Uguale Al mantello Come speravo Di fare Però Questo qui Ci si avvicina Più di Qualsiasi Altro colore Almeno Penso che sia così E Fatto sta Che anche se Non ci si avvicina Del tutto È comunque Bello Perché è un colore Unico E che Avremo solo noi Perché è una colorazione Molto particolare Oltretutto È un colore Che ricorda L'argilla verde Non so se ci avete fatto caso E guarda caso Proprio l'argilla verde È il blocco Che abbiamo utilizzato Per fare il mantello Nella statua E quindi Ci sta Secondo me Ora Prendiamo Il colorante Sì Dovrebbe bastare Perfetto Torniamo giù Perché dobbiamo anche fare Il colorante ciano Con Del lapis Andiamo qui E facciamo Quindi Così Perfetto Teniamo due unità Coloriamo il cappello Quindi ancora bianco 2 di ciano E 4 di verde Eccoci qui E abbiamo la nostra Armatura Da blazer Full Che viene In questo modo Purtroppo L'armatura L'armatura di pelle Ha questa cosa Del secondo layer Per cui tipo Le ginocchiere E quella striscia in testa Che rimangono marroni E che non so come si colorano E non sono del tutto certo Della cosa Ma penso che sia Colorabile Solo con Dei comandi Perché in survival Le ho provate tutte Ho cercato sulla wiki E tante altre cose Ma non ho trovato Nessun metodo Per Colorarla Vediamola anche da dietro Molto Fashion Fashion minecraft E per cui Questa è la nostra Armatura Da blazer Poi nulla ci vieta Magari In un futuro Di fare anche Un'armatura Gialla O arancione Per ricordare I colori Delle blaze A parte che c'è già L'armatura d'oro Che è abbastanza Gialla Però vabbè Questa qua ricorda Più il burro Come ci insegna Il buon Skydas minecraft Magari ne potremmo Fare comunque un'altra Che sia un po' Più sull'arancione Si può fare Dunque A questo punto Prendiamoci anche Dei lapislazzuli Andiamo all'enchanting table E la incantiamo pure Perché così Diventa più figa Purtroppo Incantando l'armatura C'è da dire Ah intanto Guardate qui Cosa avevo fatto Il pavimento Come da questa parte Mi sono dimenticato Di farvelo notare Anche da qua sopra È tutto marrone Scuro E devo dire Che alla fine Dei conti Ci sta anche Parecchio bene Niente Piccola parentesi Stavo dicendo Stavo dicendo Che anche Incantando l'armatura Purtroppo Si crea Oltre Perché È già consumata Che cazzo Ho fatto Ho solo Ah Preso danno Dal cactus Mannaggia me Vabbè Dicevo A parte Il primo strato Biancastro Che dà la sfumatura Dell'armatura Incantando Si ottiene Un altro strato Ancora Che si va A sovrapporre E che nasconde Un po' Il colore Originario Però La texture Dell'incantamento È figo È figa Quindi Va bene così Mio dio Con un livello Protezione 1 Unbreaking 1 Niente male Questa costa 7 Vabbè È quella minima Tanto io Sono interessato Solo all'effetto Quindi Protezione dei proiettili 1 E protezione dei proiettili 2 Ma niente male Devo dire Ma Ma questo È l'incantamento Che agevola Il nuoto Sott'acqua Se non sbaglio Porca Eva Ma si può Che l'ho tenuto Su questa armatura E non sulle altre C'è Il solito La solita fortuna Intanto qua Continua a piovere Oggi Qua fuori Una cosa impressionante Va bene Proviamo a metterla Un attimo Vi faccio vedere Anche come sta Vista così È molto carina Secondo me Anche se ha perso Un po' La colorazione iniziale Però mi piace E andiamo a metterla Dunque Sull'armor stand Facciamo un attimo Così La mettiamo Qua Dai Ok E andiamo a mettere Sull'armor stand Quindi qua c'è L'armatura di maglia Quella d'oro La metteremo qui Così Così E così Armatura Da blazer Full Incantata Colorata E tutto E tutto quanto Finalmente Ce l'abbiamo E quindi Torniamo giù Come vi ho detto Potremmo anche farne Un'altra Per metterla Sull'ultimo stand E magari farla Arancione Comunque vediamo Fatemi anche sapere voi Se ne volete una seconda E si può fare tutto Comunque non c'è Assolutamente Nessun problema Fatemi anche sapere Se vi piace Come ho ultimato Questa zona Con questo pavimento Secondo me sta molto bene Mi avete Un po' criticato Questa parete Che in effetti È rimasta molto vuota Però Anche da questa parte È tutto Molto grezzo Molto vuoto Quindi Non lo so Potrei trovare Qualcosa Da metterci Magari ci mettiamo Qualche quadro Ci devo pensare E Detto questo Possiamo anche Concludere la puntata Mi spiace di aver Dedicato un'intera puntata All'armatura Anche se è una cosa Molto importante Però un po' mi spiace Perché volevo Già iniziare A fare La prossima cosa Che faremo Vale a dire Voglio accontentare Tante richieste Che ho ricevuto Di replicare La mia prima casetta Che ho costruito In questo mondo E che ho abbandonato Nel vecchio mondo Di replicarla E di costruirla Qua nella base Ho intenzione Di farla In particolare Là nell'angolino Dove c'è L'angolo Delle mura Voglio fare lì La casa Che avevo fatto All'inizio della serie Sarà una cosa Molto nostalgica E molto bella Anche perché Poi in quella zona Ho intenzione Di fare tante altre cose E di ampliare Fare tipo Una sorta di Villaggio Poi vediamo bene Come uscirà Come uscirà il tutto E devo ricordarmi Anche di aggiustare La farm di neve Perché non l'ho mai fatto La dobbiamo aggiustare Comunque Detto ciò ragazzi Se vi è piaciuta L'armatura Se vi è piaciuta La puntata Lasciate un bel like Un commento Come al solito Per darmi consiglio Per suggerirmi Che cosa fare Nelle prossime puntate E ovviamente Condividete Il video Se volete Sostenermi Io vi saluto Ci vediamo Nella prossima puntata Dove costruiremo Nuovamente La prima casa Della serie Un saluto Da Aaron Blaze Ciao 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 Ciao